Posso dire in tutta onestà di non aver mai ammazzato qualcuno che non lo meritasse La mia filosofia era sempre stata questa Non fare mai niente per niente Sava sandia Dai ragazzi che si è andati per la messa E lei che l'ha venuto? Imprenditori Ce l'avevo nel sangue lo spirito imprenditoriale E i bastonati A sposa O sangue E' raggiunto il momento di allargare la rete Ma che ho sentito io che stanno organizzando qualcosa di grosso L'eroina è il futuro, santo Riempiamo le strade, le piazze e i salotti di roba A otto la tagliate questa, a otto, è buonissima È la prima volta che esco con un lucco come te Che intendi? Un imprenditore? Un irisolto Non ci pensavo a fare un delinquente di mestiere Volevo una famiglia, una casa e un'attività Io so chi sei veramente Lei non sa di cosa è capace Pentiti santo Pentiti Pentiti Ora capisci perché deve provare per lui E prometta che lo farà Volevo un'attività No Country for Old Men Hey guys, here's today's daily fact Now, there will be blood disrupted shooting for No Country for Old Men In 2007, they filmed in the same area of Marfa, Texas Which created issues when a pyrotechnical test for There Will Be Blood Created a huge smoke cloud that got into the shop for No Country for Old Men Joel and Ethan Cohen had to wait for it to dissipate Before they could get back to shooting Now remember to click here below To subscribe for more great content And on the side for another video And on the side for another video